Fondali bassi e armatori costretti a trasferire le imbarcazioni più grandi nel porto di Ortona. Così si fa sempre più complicata la situazione porto di Pescara. Gli interventi fatti negli ultimi giorni, dicono dall'Associazione Armatori, non sono stati risolutivi. I lavori, dopo che tre barche erano rimaste incagliate per più di 24 ore, hanno riguardato lo spostamento dei sedimenti, liberando la canaletta, ma con il cambio di perturbazione e il ritorno del maltempo si torna a punto e a capo. A mettere in difficoltà gli armatori ci sono anche le basse mare che dureranno per tutto il mese di febbraio. Sappiamo che al momento ci sono delle criticità, aveva detto nei giorni scorsi il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, ma il nostro obiettivo continua è superarle in modo definitivo, portando avanti con forza e velocità i lavori di allungamento dei due moli e cancellando in modo definitivo il problema dell'insabbiamento. Lavori che però, dopo l'ultima riunione in Capitaneria, partiranno tra febbraio e marzo. Gli armatori, già esasperati da molti anni, chiedono invece una riunione urgente con prefetto e regione.